ragazzi iscrizione al canale gratis e campanellina iscrivetevi al canale fate iscrivere i vostri amici al canale degli esonerati qui è tutto gratis l'inter di tutti gli interisti condividete il link del canale sui vostri gruppi whatsapp telegram ovunque fate iscrivere ed iscrivetevi al canale se vi fa piacere altrimenti non ci sono problemi te lo posso garantire il signor ben jacobs che ieri ha smentito categoricamente la fake news l'ennesima fake news altani inter era il signore si occupò di piff newcastle era quello che aveva già visto che comunque aveva già capito che piff avrebbe acquisito newcastle tra l'altro il signor jacobs ed è tutto agli atti ed è tutto dimostrabili non ha mai smentito sauditi inter ha sempre detto mentre attenzione ragazzi mentre tutto il mondo parlava di piff inter se vi ricordate circa due anni fa comprese le tv arabe perché questo non va lasciato per strada comprese le tv arabe che parlavano di piff dei sauditi inter io ormai dico sauditi da più di un anno devo più piff lui non ha mai smentito lui ha sempre detto c'erano dei problemi dei problemi con l'offerta che stavano trattando non ha mai smentito dicendo fake news come su altani ed è il primo il signor jacobs giornalista politico americano che si occupò di piff newcastle quindi via quest'altro nome ziliacus era già pronto a fare un'altra società con l'arabo magari 99 l'arabo e l'uno per cento lo metteva lui ma gli è andata male anche a questo giro a ziliacus questo è l'ennesimo nome buttato lì in pasto ai giornalisti ma smentito dal numero uno in assoluto da ben jacobs quindi via anche questo del qatar via anche altani e attendiamo il prossimo nome a me ragazzi permette permettetemi permettetemi non uno sfogo permettetemi di dire una cosa cioè a me dispiace vedere gente che parlava di americani e diceva non esistono arabi l'inter andrà gli americani poi si sono nascosti dietro di invescorp ora dopo invescorp hanno incominciato a parlare di catarre cioè ragazzi ormai li vedi poverini no che sono in cerca di un po di visibilità perché non se li calcola nessuno ma non la troverete così la visibilità parlate di altre cose non sapete nulla avete fatto un'altra figuraccia con questo del catarre ora qual è il quarto nome siete stati due anni a parlare di americani poi vi siete nascosti dietro invescorp poi da invescorp siete passati al catarre chi è il prossimo poi silver lake poi c'è gente che manda i huriulum in arabia saudita e si spaccia per insider entrano nei canali come commentatori poi dopo tre mesi diventano insider ragazzi o ragazzi o ragazzi ma parlate di calcio lasciate perdere cose non sapete lasciate stare anche con questo del catar che figura avete fatto altani si itani a firenze c'è uno si chiama tani marcello itani lo diamo io ascolta che palle senza l'inter il campionato però ragazzi allora io ti io ti dico che secondo me ti racconto una cosa continuo a dirti che secondo me l'inter farà di tutto per rimanere a san siro innanzitutto san siro con una concessione a 99 anni come danno i comuni con un project chiamalo come ti pare con diritto di superficie come hanno anche i gobbi tanto per farti un esempio è come se poi diventasse di proprietà allo stadio quindi diventa un asset ci siamo capiti i ricavi giuse ma i ricavi poi dopo i ricavi con la concessione a 99 anni con un project sarebbero tutti dell'inter i ricavi ricavi sarebbero tutti dell'inter la ristrutturazione una parte del comune e una parte dell'inter e tra l'altro l'affitto verrebbe detratto dai costi di ristrutturazioni che si sobbarcherebbe l'inter capisci a cosa stanno puntando loro questa voce del vincolo tra detto anche fabio bergomi l'altro giorno quando sono andato ospiti vincolo non esiste sempre se addirittura perché si vociferava anche questo sempre sempre sala sempre che non trovi addirittura un accordo per comprare il san siro per vendere lo stadio e attenzione perché anche questa non è un'ipotesi da scartare ragazzi e veniamo a ruzzano per come la vedo io per quello che mi hanno sempre detto perché io dico sempre le stesse cose sauditi l'inter sarà saudita l'inter farà di tutto e sono me rimarrà stanzi per come la vedo io per quello che mi dicono diciamo che più per quello che mi dicono rozzano serve all'inter per avere più potere di contrattazione con il comune di milano per potergli mettere più pressione per avere comunque capito più potere di contrattazione per quello c'è rozzano per quello esiste esiste il discorso rozzano tra l'altro hanno già tirato fuori tutti i problemi di viabilità che creerebbe fare una sonda tangenziale ci vorrebbero vent'anni per fare una sonda tangenziale in italia problemi di viabilità si chiuderebbe tutto lascia perdere c'è lo spazio non me ne frega una sega ah tra l'altro non lo so dov'è il cinese ragazzi è inutile mi chiedete giuse non lo so dov'è il cinese io non so dov'è il cinese so che non è a milano ma dov'è il cinese non lo so non gli ho messo un gps in tasca non lo so dov'è il cinese ragazzi è inutile me lo chiedete tutti i giorni giuse ma il cinese è qui il cinese gli hanno detto non lo so dov'è il cinese se non lo vedo sto meglio mettiamola così va bene siamo tento non lo so dov'è il cinese addirittura è oltre ad essere un piano b rozzano con poche centinaia di migliaia di euro l'inter porta avanti questo progetto a rozzano per avere ancora più credibilità perché dice guarda se no io vuoi di là quindi sta portando avanti la cosa ma l'inter l'intenzione dell'inter è rimanere a san silo l'inter così riuscendo ad avere carta bianca ristrutturazione niente vincolo potrebbe godere rimanendo a san silo di un impianto prestigioso tirato all'uscito con gallerie vip box ristoranti skybox e bilibili bla 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 ci siamo capiti ci siamo capiti oppure no quindi rozzano è il piano b ed è un'arma che serve all'inter per avere più potere di contrattazione con il comune di milano il vincolo ad oggi non esiste sfido chiunque a dire il contrario non c'è nessun vincolo è una roba astratta dal 2025 potrebbe esserci un vincolo ad oggi non c'è nessun vincolo te lo ripeto ti rifaccio l'esempio del real madrid perché hanno ristrutturato il bernabeo e non sono fatti un altro stadio la stessa cosa per cui l'inter vorrebbe ristrutturare san silo e rimanere a milano vuoi mettere il prestigio del bernabeo con un altro stadio anche seppur nuovo no ed ecco fatto ragazzi si parla di icardi io ieri ho detto la mia sui cardi e che ti devo dire anche a me mi stassi coglioni icardi però icardi turam lautaro martinez si comincerebbe a ragionare ruoterebbero tutti e tre gli avresti sempre tutti e tre al cento per cento icardi dovrebbe venire a fare la riserva tutto quello che vi pare ma fino a che non cambia la proprietà in queste condizioni io icardi dopo la botta quadrato io icardi l'avrei accettato ti dico la sincerità prima di vedere due pensionate di 35 anni icardi l'avrei preferito all'astra grande anche perché ancora mi sembra i suoi colletti li faccia no quindi di cosa vogliamo ragionare ci becchiamo più tardi ciao inter altani tani tani Ha 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 ha!